Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro webinar, sono molto felice di avervi qui con noi. Abbiamo fatto anche un'estensione della nostra piattaforma per accogliervi tutti e quindi vi ringrazio della vostra partecipazione. Vedremo di fare buon uso del vostro tempo. Sono oggi con un panel di persone di altissimo profilo e che avrò piacere di presentarvi con me in particolare Giulia Aloisio che ci racconterà della sua esperienza nel digital commerce B2B di una grande impresa manifatturiera come General Fittings, con lei Patrizia Bizzotto che ha curato lo sviluppo della piattaforma tecnologica RubinRed su cui si basa l'esperienza che racconteremo fra le tante cose che racconteremo e avremo modo di approfondire questa sera. La nostra è una sessione come sempre molto interattiva nel senso che ci aspettiamo alla fine del nostro incontro di raccogliere le vostre domande e poter approfondire i tanti temi che mettiamo sul tavolo. Quindi possiamo proseguire andando a fare una riflessione su quello che è un tema che ci è particolarmente caro che è quello delle eccellenze nascoste. L'Italia è un paese straordinario in cui si concentra una capacità di fare, di coniugare il sogno con la forma, con la funzione d'uso come crediamo davvero avvenga raramente in ben pochi altri luoghi. E quindi da questo punto di vista quello che ci sta sorprendendo è quella che nell'ambito della considerazione della leadership italiana è in realtà un gap di grande criticità. In questo momento stando appunto a quella che è l'opinione degli analisti più accreditati e vedrete qui indicazioni che arrivano dal World Economic Forum, da Garner, Brand Zed, come avete visto in questa slide. Il Made in Italy è un risultato straordinario dal punto di vista della nostra capacità di diffondere i valori, la cultura, i contenuti dell'Italia nel mondo, ma questa eccellenza è penalizzata da una scarsissima capacità di indirizzare i processi relazionali e di condivisione del risultato, come possiamo vedere nella slide successiva, nell'azione commerciale. Le aziende italiane nel settore manifatturiero sono fortemente penalizzate oggi per la scarsa digitalizzazione e se proseguiamo, quello che si evidenzia è una vera e propria situazione endemica di grave difficoltà legata al fatto che così come siamo riconosciutamente dei champion in tanti settori industriali, nella moda, nel design, nell'industria manifatturiera appunto nel mondo, dall'altra parte dal punto di vista della capacità di competere con strumenti e canali digitali siamo in grave difficoltà. Qui vedete addirittura siamo al 42esimo posto dopo la Thailandia, il Kazakhstan e la Malesia. Allora non me ne vorrà il Kazakhstan e gli amici che ci stanno eventualmente seguendo da quel paese straordinario, però insomma l'Italia, il Mediterraneo, la culla della civiltà occidentale potrebbe fare qualcosa di meglio che stare dopo il Kazakhstan dal punto di vista dell'adozione degli strumenti digitali. Ecco, che cosa ci dice l'Unione Europea nell'istituzione che elabora il Digital Economic Society Index? Che siamo in terz'ultima posizione. Solo il 9% delle imprese italiane, in particolare nel settore manifatturiero, questa situazione è ancora più grave, sta sfruttando le opportunità del digital commerce e una percentuale ancora più piccola, il 7%, usa canali digitali, touch point digitali, siti web, app, B2B per vendere. E questo è un problema. Che cosa serve? Serve superare quelli che sono i limiti oggi alla nostra trasformazione digitale perché siamo fermi al palo, perché se non ci diamo una mossa molto velocemente non riusciremo a recuperare il gap. I problemi sono evidentemente infrastrutturali, sono legati alla mancanza di competenze. Ecco, mi piace ricordare nella slide che vedete presentata quella che è stata l'epopea dell'Italia quando contava qualcosa nel mondo. Qui vedete un'immagine di 2001, 2006 nello spazio, quando Floyd chiama la figlia con una videotelefonata dalla stazione spaziale prima di andare sulla Luna. E la cosa che ricordo, e mi è rimasta impressa fin da bambino, questo film del 68, è che la scelta della lingua di questo videotelefono era la scelta fra inglese, francese, tedesco e italiano. Quella che vedete rappresentata qui è invece la schermata di scelta delle lingue di un videogioco, si chiama PUBG, è un videogioco che ha centinaia di milioni di utilizzatori, molto diffuso, simile a Fortnite, e voi vedete che qui si può scegliere l'inglese, il russo, il portoghese, si può scegliere il tedesco, si può scegliere lo spagnolo e poi tante lingue orientali, il turco, e l'italiano non l'hanno nemmeno contemplato, perché tutto sommato dal punto di vista dell'adozione del digitale, gli italiani sono un numero davvero contenuto. E allora se ragioniamo dal punto di vista di quella che è stata la sostanza del problema legato evidentemente agli effetti economici della Seconda Guerra Mondiale, quello che stiamo vedendo anche nelle proiezioni della crisi economica che seguirà la pandemia da Covid è che in rapporto alle economie più sviluppate ci ritroveremo in una condizione simile a quella dell'Italia nel dopoguerra, quando metà della popolazione italiana era sotto la soglia della povertà, erano anni terribili. Ma erano anche anni in cui, prosegui pure Niccolò, nacque per noi e per tutta l'Europa una grande opportunità, perché il piano Marshall, che fu operativo dal dopoguerra fino al 1951, ha dato una prima spinta alla ricostruzione dell'Italia, che iniziò a crescere rapidamente e con le sue forze, a partire dal 1954 arrivò robusta e molto solida come economia all'entrata nel mercato comune del 1957 e da lì il boom economico degli anni 60. Da lì nel giro di pochi anni l'Italia divenne uno stato urbano, industriale, che si posizionò al settimo posto fra i paesi più industrializzati. Le nostre imprese erano eccellenti, erano dei riferimenti a livello mondiale nell'industria tessile, siderurgica, meccanica, chimica, nell'edilizia, nell'industria manifatturiera. Questa grande espansione economica fu determinata da una serie di elementi concomitanti. Tre, principalmente la congiuntura favorevole per l'incremento del commercio internazionale, la fine del protezionismo fascista, che incentivò il nostro sistema produttivo e lo costrinse, costrinse di fatto le nostre aziende a modernarsi, a confrontarsi con la concorrenza, e certamente anche il basso costo del lavoro. Senza il basso costo del lavoro il miracolo economico non avrebbe potuto avere luogo. Ma in sostanza il vero driver del boom economico italiano fu la capacità delle nostre imprese di fare bene, di saper vendere altrettanto bene. E oggi fare e vendere non può prescindere dal digitale. Noi dobbiamo usare questa crisi per fare digitale, per vendere digitale. Noi dobbiamo usare i fondi in arrivo dall'Europa facendo ancora meglio di quello che abbiamo saputo fare per dare vita a un nuovo miracolo italiano. Per fare questo noi dobbiamo imparare a parlare digitale. Dobbiamo imparare a parlare digitale molto velocemente, se non sappiamo ancora farlo, perché non c'è più tempo. Le nostre imprese devono diventare da fragili, come sono oggi, per come è cambiato radicalmente il mondo in questi 20 anni, a imprese robuste e poi a imprese resilienti. E se pensate che la vostra impresa sia già resiliente, io vi dico che non dovete accontentarvi, dovete usare questa crisi per renderla antifragile. Un'impresa antifragile è un'impresa che è in grado di utilizzare a proprio vantaggio le sollecitazioni del cambiamento intorno a sé, i cigni neri, come si sente molto frequentemente dire in questo tempo terribile, ma anche ricco di opportunità che stiamo vivendo, dal punto di vista almeno economico, perché solo quelle evidentemente possono rappresentare il bicchiere mezzo pieno, sul resto non c'è nulla di cui rallegrarsi. Però questa è la nostra grande occasione, l'occasione di un paese, di un sistema industriale, che può modificarsi in modo radicale per adattarsi molto più velocemente, con un'accelerazione di 5 anni in 1, di 10 anni magari in un paio di anni, a un mondo che è cambiato. Così come il miracolo economico italiano è stato determinato dalla capacità di vendere in tutto il mondo, il nostro talento, la nostra capacità di fare e saper fare, allo stesso modo io credo che noi possiamo usare questa crisi per recuperare il tempo perduto sulla trasformazione digitale. E da questo punto di vista oggi parliamo in modo particolare di come è evoluto il processo di acquisto B2B. Allora, che cosa abbiamo deciso di evidenziare e che poi svilupperemo dal punto di vista della nostra narrazione? Beh, innanzitutto, la prima considerazione è che oggi, stando alle statistiche più accreditate, il 61% dei buyer, di coloro che acquistano nel mondo business to business, usa il digitale con una certa continuità. I processi si sono spostati di acquisto sul digitale. Quasi tutte le aziende che continuano ad operare oggi nell'economia del nostro paese sono aziende che naturalmente fanno un ampio uso del digitale. l'interazione digitale è l'unico modo con cui si può rimanere in contatto con i propri clienti. C'è stato uno sviluppo straordinario delle attività di acquisto in self-service, nel senso che nel mondo B2B sempre più i clienti vogliono autonomia, vogliono poter operare come su Amazon, essere nel driving seat, nel momento in cui effettuano le decisioni di acquisto e si approvvigionano dei nostri prodotti. E da questo punto di vista i trend sono anche abbastanza tracciati. Quello che sta avvenendo è che la trasformazione a cui tutta l'economia della nostra specie, almeno per la parte dei paesi sviluppati, sta subendo, la trasformazione sostanziale che questa economia ha subito, è una trasformazione da cui non si torna indietro. E da questo discende un concetto fondamentale che ci fa piacere condividere questa sera, di cui forse avete già sentito parlare, che comincia a avere una caratterizzazione abbastanza specifica da poterne parlare senza un mismatch cognitivo, che è il concetto di digital twin. Secondo noi, e secondo le opinioni più accreditate, intersecate, perché poi c'è qualche differenza in come gli analisti lo percepiscono, ma secondo noi il digital twin è l'identità digitale di un oggetto che rappresenta il nostro prodotto, un oggetto con cui il nostro cliente può interagire attraverso touch point digitali, attraverso siti web, attraverso app. Ecco, questo digital twin è tanto essenziale nell'evoluzione del vostro modello di business e nella relazione con i vostri clienti oggi quanto lo è il prodotto, perché il digital twin è la sua rappresentazione. Da questo punto di vista il customer journey degli utenti B2B è cambiato radicalmente con la pandemia di Covid. A fronte di quella che è la richiesta di un cliente, oggi, tutto il processo di acquisto è un processo centrato sul buyer e riuscire a essere capaci di rappresentare il proprio prodotto attraverso la sua versione digitale, attraverso il suo digital twin, in un modo efficace, è fondamentale per riuscire a restare sul mercato. Vorrei dire prosperare, ma qui si tratta di sopravvivenza. Molte, troppe imprese italiane nel manufacturing mancano nei pilastri del digital twin, che sono due fondamentalmente. Da una parte abbiamo i processi di generazione delle opportunità commerciali e dall'altra parte abbiamo tutto lo spazio del digital commerce B2B. Questi due pilastri sono due pilastri irrinunciabili. Se non ci sono o se sono male costruiti, se hanno delle fondamenta fragili, allora l'azienda non sta in piedi. Da questo punto di vista, partendo dal primo pilastro, fondamentale è il processo di lead generation. Oggi le fiere di settore, che erano il primo driver di opportunità commerciali nel B2B, non si possono più fare, perché le persone devono mantenere un distanziamento sociale che non rende compatibile l'organizzazione di eventi a cui partecipano molte persone. Noi crediamo che questo passaggio, questa trasformazione dagli eventi fisici agli eventi virtuali, digitali, sia un passaggio definitivo. Questo non vuol dire che non ci saranno più fiere di settore. Noi umani abbiamo comunque bisogno di stenderci la mano, di abbracciarci, di salutarci, di vederci in persona, perché in persona ci comunichiamo molte più cose di quelle che riusciamo a dirci come noi e voi in questo momento che ci state seguendo. Però diciamo che quello che avverrà certamente sarà che questi eventi saranno molto meno frequenti che in passato. Si diraderanno le occasioni di relazione personale che rimarranno comunque fondamentali nel business e nel comparto B2B, ma non potranno che essere accompagnate con continuità da molto più efficaci e molto più frequenti relazioni digitali. E relazioni digitali che però devono migliorare rispetto allo scenario attuale, devono diventare più empatiche. Essere empatici significa mettersi nei panni dell'interlocutore, vedere il mondo dal suo punto di vista, rendersi conto che ogni cliente è unico e la sua prospettiva va considerata con straordinaria cura perché aziende come la nostra esistono solo perché ci sono clienti come voi, almeno molti fra voi nell'audience, e noi esistiamo per servirvi, per esservi utili. Quindi il vostro punto di vista è il punto di vista che dobbiamo assumere. E da questo punto di vista, a vostra volta, assumere questo punto di vista nei confronti dei vostri clienti significa, secondo noi, puntare su tre elementi fondamentali. Be helpful, be human e be handy. Questo significa, in primis, essere utili, mettersi a servizio, essere umani, considerare le persone per quello che sono, individui che hanno bisogno e desiderio di diventare qualcun altro, qualcosa di diverso, grazie al vostro prodotto o servizio, nei limiti del loro tempo e del loro talento. E be handy, essere pratici, a portata di mano, senza fronzoli. Quello che dovete fare con il digitale è esattamente quello che avete fatto nel mondo analogico. Se avete fatto bene, e sicuramente sarà così, con i vostri clienti. E cioè, non utilizzare nemmeno un minuto del vostro tempo per non fare cose che siano utili ai vostri clienti. Col digitale è esattamente la stessa cosa. Cambiano gli strumenti, cambiano i mezzi e cambia la leva. Avete una leva straordinariamente lunga per poter produrre più valore con uno sforzo più piccolo, a patto di fare le cose per bene. Ecco, in questo senso i concetti di business to business, di direct to consumer o business to consumer e di human to human tendono a sovrapporsi. Perché, grazie al digitale, l'opportunità oggi è quella di riuscire a stabilire comunque delle relazioni che sono intime attraverso la personalizzazione in particolare. Parliamo quindi di digital commerce B2B. Una considerazione, il digital commerce B2B ha una grandissima opportunità, soprattutto in Italia. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, in questo caso, il nostro gap digitale, soprattutto da parte delle imprese manifatturiere del nostro paese e del mondo B2B in generale, questo gap è l'occasione per poter fare bene con uno sforzo anche relativamente contenuto, per eccellere nel proprio comparto, superando anche la competition, senza necessariamente dover fare qualcosa di straordinario. Oggi nel mondo di direct to consumer fare un progetto di digital commerce che faccia davvero la differenza, che competa con una user experience quale quella che Amazon nel mondo retail è in grado di assicurare, è molto difficile e costoso. Nel B2B la buona notizia è che è possibile ottenere grandi risultati con uno sforzo incommensurabilmente minore. Da questo punto di vista lo spazio di opportunità immenso che dovete colmare, che avete l'occasione di colmare, è quello di andare a indirizzare la vostra clientela con dei processi di relazione con il vostro prodotto servizio e acquisto molto più efficaci di quanto fanno mediamente le aziende dei vostri rispettivi settori. Da questo punto di vista circa metà dei buyer nel B2B effettua ricerche online, come potete vedere nella slide successiva, effettua ricerche online per individuare soluzioni ai propri bisogni. Da 3 a 5 fornitori vengono presi in considerazione prima che un'azienda decida di siglare un accordo, di comprare un prodotto e circa un terzo sono le persone che sarebbero più propense a scegliere un'azienda che offre funzioni di vendita e di acquisto online. Ecco, tutto questo fa il paio con una considerazione fondamentale che riguarda proprio la necessità di migliorare i processi di digital commerce nel B2B. Due sono le chiavi, da una parte la personalizzazione dell'esperienza e dall'altra la flessibilità. Partiamo dalla personalizzazione e vediamo, siamo a 22 minuti quindi siamo nei tempi perché non vorrei togliere spazio agli approfondimenti più tecnici. Di questi vedremo degli esempi concreti di quello che effettivamente le piattaforme oggi permettono di fare. È ormai acclarato che la personalizzazione nei processi di vendita B2B migliora le performance di vendita in misura molto significativa. Si parla di un incremento di quasi il 20%. Altra considerazione, nella maggior parte dei casi le persone anche nel B2B non usano computer, usano smartphone per poter effettuare le ricerche dei prodotti che sono interessati ad acquistare o dei servizi di cui hanno necessità. Ora, in Italia più o meno la metà dei portali B2B non è ottimizzato per lo smartphone. Significa che mediamente la metà delle aziende che vendono B2B non hanno una presentabilità della propria offerta coerente con quelle che sono le necessità di interazione e di acquisto dei propri clienti. È un po' come se un'azienda avesse una rete di negozi in cui metà di questi negozi sono chiusi perché non hanno fatto le pulizie o perché non hanno pensato di aprire l'insegna. Questa è la realtà e da questo punto di vista gli spazi di miglioramento, gli spazi di crescita sono come potete immaginare enormi. Come sempre è in questo caso il bicchiere mezzo pieno. Allora, dal punto di vista in particolare di Garner che è considerato il maggiore analista nel settore tecnologico i fattori chiave per migliorare la propensione delle persone a effettuare acquisti nel mondo B2B online sono i primi tre la personalized buying experience cioè un'esperienza di acquisto che tiene conto di chi sono loro e quindi non va a raccontare tutta l'offerta in maniera indifferenziata ma propone soltanto i prodotti di reale interesse potenziale per quell'azienda che si collega e sono davvero poche le aziende che personalizzano l'offerta sulla base dell'azienda che si collega secondo aspetto un digitized catalog management system quindi un sistema un personal information un product information management system un catalogo B2B in cui sia possibile tenere traccia di tutti questi digital twin quindi delle rappresentazioni virtuali dei prodotti con tutte le loro caratteristiche sempre e costantemente aggiornato perché quella è l'offerta quello è il cuore della vostra proposta commerciale e poi una experience di mobile checkout il vostro cliente B2B che vuole acquistare il vostro prodotto o servizio deve poterlo fare con lo smartphone perché c'è uno smartphone per ogni abitante ormai del pianeta e spesso più di uno e quindi non c'è nessuna ragione per pensare che il processo di acquisto direct to consumer debba essere diverso dal processo di acquisto B2B stiamo comunque parlando con persone che usano Amazon per comprare un prodotto e farselo consegnare a casa o magari anche altri evidentemente siti e hanno un'abitudine ormai un'esperienza di acquisto che è da soddisfare l'assicella che avete di fronte a voi è molto alta ecco questo voleva essere una breve introduzione e inquadramento su quelli che sono i fattori fondamentali su cui noi crediamo che le imprese in particolare le imprese del nostro paese abbiano una straordinaria opportunità e allo stesso tempo vivano però un pericolo come mai prima nella storia dell'economia è tempo di è tempo di accelerare sull'adozione di questi strumenti è tempo di fare bene perché chi non fa bene probabilmente non avrà nemmeno più tempo per guardarsi indietro fra le aziende che hanno fatto bene abbiamo piacere di annoverare tanti clienti di cui parleremo oggi in particolare di un cliente quindi passo la parola a Patrizia Bizzotto e vi ringrazio per avermi seguito fin qui grazie Dario buonasera a tutti inizio presentandovi Rubin Red allora lo scopo del nostro lavoro è di dare visibilità all'eccellenza nascosta del manifatturiero italiano ed è quello di cui parleremo oggi questa è la suite di soluzioni di servizi Neo Experience Rubin Red si iscrive nella cornice più ampia delle soluzioni Neo Experience che aiutano le aziende a realizzare la loro trasformazione digitale trasformazione digitale che è un processo che ogni azienda deve intraprendere e che consiste in due componenti essenziali da una parte la creazione di una piattaforma di prodotti digitali dall'altra la digitalizzazione dei processi aziendali Rubin Red è la prima piattaforma di digital commerce in Europa per numero di installazione grazie al fatto che abbiamo accompagnato più di mille aziende nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di collaborare per definizione con aziende che rappresentano l'eccellenza in Italia animate dalla voglia di cambiare e di innovare le aziende che intraprendono questo percorso in particolar modo in ambito B2B sono aziende che guardano avanti che hanno un DNA specifico in continua evoluzione questo ha permesso di realizzare una piattaforma che nasce dalle reali esigenze delle aziende che vogliono eccellere nel mercato Rubin Red è una digital platform all'avanguardia altamente scalabile progettata seguendo i più moderni standard tecnologici e con particolare attenzione all'usabilità e all'esperienza utente Rubin Red permette di realizzare diverse applicazioni web di qualsiasi natura e di complessità estremamente personalizzabile estendibile dalle elevate prestazioni e di facile gestione da parte dei clienti perché è molto importante l'impatto che ha il progetto digitale sulla azienda che lo adotta Rubin Red offre tutti i vantaggi del modello open source al quale ci siamo ispirate migliorandone però le prestazioni e superandone i limiti continuo presentandovi un video che illustra sicuramente bene diciamo il cuore di Rubin Red una gemma preziosa che illumina senza spegnersi mai Rubin Red è la piattaforma che dà un valore unico al tuo digital commerce una piattaforma poliedrica e adattiva con cui puoi stabilire una relazione diretta ed empatica con ognuno dei tuoi clienti gli elevati standard tecnologici e le continue implementazioni rendono Rubin Red uno strumento prodigioso per offrire ai tuoi clienti e business partner esperienze di acquisto autentiche e integrate in tutti i touch point dai siti web alle app dai social media ai punti vendita Rubin Red è totalmente personalizzabile nell'aspetto e nelle funzioni grazie alla cloud Amazon Web Services su cui è basata offre prestazioni elevate e totale sicurezza dei dati più l'esperienza di acquisto è coinvolgente più il valore del brand e i margini di vendita aumentano l'empatia è l'ingrediente segreto di una brand experience indimenticabile scopri come la tecnologia di Rubin Red l'ecosistema dei partner e le tante soluzioni integrate possono creare più valore per la tua impresa Rubin Red your digital commerce gem rieccomi spero vediate tutti la presentazione allora vi illustrerò velocemente le caratteristiche principali di Rubin Red in quanto Rubin Red non fornisce una semplice soluzione ai bisogni dichiarati dei vostri clienti ma è un processo focalizzato su quali siano i bisogni dei clienti e soprattutto di chi i vostri clienti vogliono diventare grazie a voi e grazie ai servizi della vostra azienda le caratteristiche principali di Rubin Red allora innanzitutto è made for business perché perché è business oriented permette di realizzare canali di vendita digitali in modo veloce flessibile e scalabile integrandosi con tutti i sistemi aziendali perché SEO Ready nativa cioè amata dai motori di ricerca permette di gestire le principali caratteristiche di web marketing delle pagine e dei contenuti in modalità nativa e automatizzata ed è costantemente aggiornata ogni volta che Google e che succede spesso cambia le regole ricordiamo che il principale canale di ingresso al vostro al vostro e ai nostri siti è Google non essere trovati su Google vuol dire essere invisibili e perché inoltre è integrata a terze parti si aggancia a tutto l'ecosistema digitale interno ed esterno all'azienda è progettata per ottenere risultati sia risultati attuali e future perché è agile nel design scalabile nel tempo e coinvolge il cliente nel processo di sviluppo per ridurre il time to market di progetto e può evolvere in base alle personalizzazioni richieste ogni processo di trasformazione digitale inizia e non finisce mai è un percorso che si deve fare per cui anche la piattaforma deve adeguarsi alle continue richieste di un mondo e di un'azienda che cambia ha un controllo totale e sicuro l'amministratore può definire le policy di accesso e gestione più opportune e sicura e sempre giornata perché di questo ce ne occupiamo noi ed è una piattaforma aperta per la realizzazione e lo sviluppo di applicazioni di nuova generazione con una struttura completamente modulare è realizzata su cloud AWS per garantire elevati standard di sicurezza velocità e flessibilità un altro punto importante che è personalizzabile e collaborativa cioè l'architettura di RubyRet permette di creare esperienze digitali senza vincoli nell'architettura dell'informazione del layout e delle user experience e questo permette di creare esperienze utente personalizzate personalizzate su molti aspetti l'utilizzo della piattaforma inoltre non richiede ai redattori competenze specialistiche rendendo il team dell'azienda subito produttivo anche grazie a un media library progettato per raccogliere e organizzare tutti i contenuti multimediali se il contenuto se il prodotto è king re allora deve essere possibile anche distribuirlo su siti diversi social device offrendo una gamma di layout responsivi o specifici per singoli device e anche per singoli mercati geografici il target il target rubin red si rivolge alle medie e grandi aziende sia del settore B2B che settore B2C che cercano una forte personalizzazione ha il vantaggio di avere una totale personalizzazione del front end e bassi costi di implementazione delle personalizzazioni e delle evoluzioni a questo si aggiungono poi prestazioni enterprise class in termini di tempi di risposta e utilizzo moderato delle risorse cloud molte aziende B2B hanno cataloghi estremamente profondi quindi con un numero di referenze molto elevate e anche in caso le prestazioni le velocità con cui reperire il prodotto diventano un punto fondamentale vorrei ora parlarvi di alcuni progetti di successo per il settore manifatturiero abbiamo riportato pochissimi casi pur avendone tantissimo uno è Fire Group in cui questa è un'azienda leader nel mondo trentina nella produzione di trince per applicazioni forestali e anche per lo sminamento e se avete piacere poi di andarlo a vedere noterete come l'aspetto comunicativo si è stato estremamente abbiano dato grande valore alla comunicazione quindi non è stata solo una rappresentazione del prodotto ma anche una comunicazione di valori dell'azienda stessa e hanno usato nella solution il cuore pulsante fatto attraverso l'uso di immagini a 360 gradi fotogalere video per illustrare gli articoli in tutti gli aspetti le applicazioni questo sito in particolar modo ha una navigazione personalizzata per country in quanto ogni mercato geografico ha esigenze diverse ed è richiede prodotti di tipo diversi l'impatto l'impatto di FAE è quello che è il loro clay big one step ahead quindi voler essere un passo avanti un altro caso che mi piace citare è Marpos Marpos è leader mondiale negli strumenti di precisione ed è un'azienda che accompagniamo nel processo di trasformazione digitale da molti anni in questo caso la solution è una solution molto complessa in quanto i target sono molto diversi tra di loro e si riferiscono a industrie di tipo diverse Marpos attualmente usa il sito come principale strumento commerciale quindi proprio come un canale commerciale per generare il lead integrando contenuti che vengono analizzati attraverso attività di business intelligence e anche tutte le consociate sono gestite centralmente da Marpos un'altra azienda che ora vi presenterò è General Fittings e a questo punto lascio la parola a Giulia Loisio direttrice marketing di General Fittings grazie Patrizia buonasera a tutti sono Giulia Loisio direttore marketing di General Fittings e ho il piacere spero stasera di riuscire a presentarvi una case history concreta di come ci siamo mossi in General Fittings nella trasformazione digitale due parole su chi è General Fittings General Fittings è un'azienda che produce da 40 anni festeggiamo più il quarantesimo quest'anno prodotti per l'idrotermosanitaria quindi per l'impiantistica raccordi valvole collettori riscaldamento a pavimento e quindi siamo all'interno di un B2B e quindi di un'azienda manifatturiera io sono direttore di General Fittings da un anno ho una precedente esperienza di 5 anni sempre nel B2B e in precedenza ho fatto un'esperienza di circa 15 anni invece nel B2C e quindi in prima persona ho vissuto le problematiche e gli ostacoli di cui si parlavano prima della trasformazione digitale tra mondo B2C nettamente più avanti rispetto a un B2B calando un po' più nel concreto quella che è stata l'esperienza di General Fittings dicevo io sono arrivata in General Fittings un anno fa e mi sono proprio trovata ad affrontare due aspetti citati proprio da questo webinar Made in Italy ed eccellenza non comunicata General Fittings è un'azienda manifatturiera con una realtà bellissima a livello di macchinari di ultima generazione che si trova però nella difficoltà di comunicare l'eccellenza italiana e i valori dell'azienda questo è spesso è tipico di molte realtà B2B ovvero italiane produciamo bene facciamo le cose bene ma non le comunichiamo all'esterno e spesso i nostri clienti non sanno quanto noi riusciamo a fare le cose fatte bene in questo spesso alcuni paesi esteri e non entro nel merito non ne cito sono molto più bravi di noi a fare marketing e marketing digitale magari fanno meno di noi concretamente hanno meno strumenti meno macchinari ma sono molto bravi a comunicare la sfida che mi sono quindi trovata di fronte in General Fittings quando sono arrivate è stata prima di tutto quella di riuscire a portare nella trasformazione digitale l'azienda e la direzione perché sostanzialmente nell'azienda B2B la direzione le persone sono abituate a produrre produrre bene a investire in macchinari e non sono dei nativi digitali quindi diventa difficile comunicare perché far passare il messaggio perché è necessaria una trasformazione digitale per riuscire a far passare questo messaggio a convincere l'azienda io sono partita da tre obiettivi principali il primo che non era il primo non è stato quello di dire dobbiamo vendere ma è stato quello di dire dobbiamo farci conoscere e dobbiamo supportare i nostri clienti questo perché lo citavano prima sia Dario che Patrizia ognuno di noi possiede un cellulare ognuno di noi possiede uno smartphone ognuno di noi fa ricerche nel mondo web e quindi anche i nostri clienti nel manifatturiero utilizzano questo cellulare per fare delle ricerche del web e avere informazioni sui nostri prodotti noi ci eravamo resi conto che il nostro sito era povero di contenuti e quindi difficilmente riuscivamo a dare le informazioni richieste ai nostri clienti apro una parentesi chi sono i nostri clienti oggi i nostri clienti diretti sono i distributori di materiali idrotermosanitario i nostri clienti finali sono gli idraulici quindi il primo obiettivo era informare dare l'informazione ai nostri clienti diretti ma anche ai nostri clienti finali agli idraulici che spesso si trovano in cantiere devono magari installare un raccordo un collettore o un riscaldamento a pavimento e devono avere rapidamente delle risposte tecniche su come installare o su come procedere a seconda dell'applicazione ovviamente riuscire a dare le informazioni corrette e complete su un sito web non solo rappresenta una soddisfazione per il cliente quindi mi rincontro un'esigenza del cliente ma per l'azienda rappresenta anche un risparmio di tempo nel dare risposte e quindi poter concentrare anche il personale interno su attività magari più più performanti quindi il fatto di avere le informazioni sul sito evita spesso di chiamare il back office o il customer service che possono concentrarsi in altre attività quindi ribadisco il primo obiettivo fornire le informazioni ai nostri clienti supportare il secondo obiettivo supportare il nostro cliente finale che era l'idraulico terzo obiettivo fare lead generation ovvero creare dei nuovi contatti attraverso la trasformazione digitale a maggior ragione in un momento in cui come diceva Dario prima vengono a mancare tutti quegli strumenti che consentivano prima di fare lead generation parlo di fiere parlo di meeting parlo dell'impossibilità della nostra forza vendita di viaggiare tenete presente che fino a un anno fa in general fittings mediamente ciascuno dei nostri area manager usciva estero usciva due o tre volte al mese di colpo si sono trovati come tutti voi rinchiusi in un ufficio e quindi nell'impossibilità di avere un contatto fisico con il cliente o con il potenziale cliente da qui la necessità quindi di utilizzare anche lo strumento digitale per fare lead generation e portare dei nuovi dei nuovi contatti questi tre obiettivi che io ho rimarcato e sottolineato hanno spinto l'azienda a fare questo investimento e a credere nella trasformazione digitale da dove sono partita si parlava prima iniziare bene creare le fondamenta fare le cose bene fin dall'inizio sono partita dalla costruzione di un nuovo sito web perché dalla mia esperienza diventa il primo mattone sul quale puoi andare a costruire tutta l'esperienza digitale la trasformazione digitale di un'azienda questo perché dal sito web si possono poi agganciare n altri strumenti digitali parlo dei canali social parlo del CRM parlo di realtà virtuale aumentata parlo di BIM quindi di prodotti in 3D parlo anche di emailing marketing perché il sito web diventa il fulcro delle informazioni da andare poi a distribuire in tutti quelli che sono i canali digitali un esempio concreto oggi noi sui nostri canali social quando facciamo dei post puntiamo spesso ai nostri siti web al nostro sito web per fare degli approfondimenti di contenuto la stessa identica modalità la utilizziamo nel mini marketing noi facciamo delle newsletter mensili ma gli approfondimenti dei contenuti vengono poi rinviati a quello che è il sito web quindi sito web per noi piattaforma web base fondamentale dalla quale partire dalla quale partire per fare la trasformazione digitale nel implementare la trasformazione digitale diventa però fondamentale quella che è la scelta del partner perché abbiamo scelto Neos Experience perché fondamentalmente avevamo bisogno di un partner che ci supportasse a 360 gradi in quello che ci supporterà anche in futuro a 360 gradi in quella che doveva essere la nostra trasformazione digitale e il nostro viaggio verso la trasformazione digitale sostanzialmente noi non stavamo cercando una passatemi il termine web agency to cure o in senso stretto perché quello che noi dovevamo implementare non era un sito vetrina ma un sito web ricco di contenuti e molto complesso tenete presente che oggi il nostro sito web gestisce più di 5.000 articoli oltre a tutta quella che è la parte di presentazione dell'azienda avevamo bisogno anche di un partner che avesse un'esperienza non solo sulla piattaforma digitale quella che io definisco sito web ma anche sulla possibilità di una system integration il sito web che abbiamo implementato nasce da un progetto molto complesso in quanto il nostro sito web oggi è integrato con un team ne parlava prima Dario sostanzialmente con un catalogo digitale in quanto avendo 5.000 articoli questi articoli non vengono alimentati manualmente abbiamo il team che è un contenitore digitale dove vengono caricati tutti i nostri prodotti con tutti i dati dati tecnici dei nostri prodotti che dialoga con il nostro sito web e nel momento in cui viene aggiornato anche un solo codice viene fatto un aggiornamento nel team che passa poi l'aggiornamento direttamente nel sito web in questa maniera il nostro sito web è costantemente informato sulle novità ma anche sulle variazioni tecniche del prodotto l'altro aspetto della system integration ha incluso invece l'integrazione con la piattaforma di mail in marketing prima vi parlavo del fatto che noi implementiamo che noi utilizziamo delle newsletter mensili quindi c'era la necessità di avere un sito che si integrasse con la piattaforma di mail in marketing concretamente che cosa avviene oggi un utente che si iscrive alla nostra newsletter nel sito web l'iscrizione viene automaticamente inviata alla piattaforma di mail in marketing in questa maniera noi possiamo gestire automaticamente integrare automaticamente il nuovo scritto nella lista di invio delle nostre delle nostre newsletter perché poi news experience quindi la necessità di avere un partner competente in materia quindi non solo la system integration ma anche perché avevamo bisogno di un partner che ci seguisse nello sviluppo di un progetto scalabile parlava prima Dario di un percorso digitale che nasce ma poi continua e continuerà anche in futuro e a maggior ragione adesso se vogliamo che le nostre aziende effettivamente abbiano un futuro da lì la necessità di prevedere anche da subito ma poi anche con l'evoluzione nei prossimi mesi nei prossimi anni un sito e una piattaforma che possa accogliere degli upgrade e dei nuovi sviluppi ad esempio il sito che noi abbiamo creato prevede già in un secondo step l'integrazione al BIM che per noi è il building modeling secondo la normativa europea in parole più povere concrete è il prodotto in 3D quindi la possibilità di avere un prodotto in 3D che il nostro progettista e tecnico può prendere e andare a inserire direttamente con tutte le quote quando va a progettare un intero edificio abbiamo già previsto l'integrazione con il gestionale in questo caso noi siamo dotati di SAP e abbiamo N sviluppi che affronteremo in futuro legati a showroom virtuali ed esperienze virtuali dei nostri dei nostri prodotti da qui appunto la necessità di avere già all'inizio un progetto che possa essere scalabile due parole su Rubin Red quindi mi aggancio un po' a quello che diceva Patrizia prima come utente allora dicevo io sono direttore marketing non sono assolutamente un tecnico io dico sempre non comprendo il tecnichese quindi avevamo in primis la necessità di avere una piattaforma di facile utilizzo non solo per la sottoscritta che poi non è quella che fisicamente alimenta la piattaforma ma per i collaboratori che non sono dei webmaster sono collaboratori dell'ufficio marketing ma utilizzano strumenti digitali in maniera molto semplice quindi Rubin Red ci ha permesso proprio di costruire il sito in una maniera molto molto semplice Rubin Red perché avevamo bisogno di flessibilità e di usabilità quindi che potesse dare anche una user experience al nostro utente è un prodotto personalizzabile io vi invito magari a visitare poi il sito di General Fittings e Rubin Red ci ha consentito non solo di gestire la parte del prodotto ma di gestire anche tutta la parte in maniera a mio parere abbastanza emotiva di comunicazione dei valori di comunicazione di chi siamo e avevamo bisogno di un prodotto altamente performante e veloce vi dicevo prima abbiamo un catalogo di 5000 codici ogni codice al suo interno ha delle prestazioni ha delle schede tecniche dobbiamo andare a comunicare le applicazioni di riferimento quindi molti molti dati immaginatevi all'esterno vi facevo l'esempio di un idraulico in cantiere che deve consultare la scheda tecnica di un nostro prodotto deve riuscire a farlo in maniera molto semplice molto intuitiva ma anche molto 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 veloce si parlava prima quindi di made in Italy di eccellenze di comunicare la nostra eccellenza il sito web a mio parere è fondamentale che all'interno di un sito web anche nel mondo B2B non si soffermi solo nella comunicazione del prodotto quindi di questo catalogo di 5000 codici con le relative caratteristiche ma ci sia anche una storytelling e un content marketing spesso nel mondo B2B ci focalizziamo molto sul prodotto poco su chi siamo e quali sono i valori che rappresentiamo il content marketing invece anche nel B2B è fondamentale diceva prima Dario la città cito le sue le sue sue frasi be helpful quindi supportare il cliente ma anche be human ricordiamoci che dietro alle aziende ci sono sempre delle persone umane soprattutto noi aziende italiane made in Italy abbiamo tanti valori da comunicare a maggior ragione quando c'è una storicità e un know-how dell'azienda è fondamentale comunicargli affinché il nostro cliente non veda solo il prodotto e la qualità ma comprenda anche chi ci sta dietro all'azienda personalmente ritengo di essere molto soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto fino ad oggi non solo io come direttore marketing ma posso spendermi anche per quella che è la direzione in quanto il risultato che abbiamo ottenuto è un sito performante completo intuitivo e che ha trovato un riscontro molto molto favorevole anche da parte dei nostri dei nostri clienti vengo più al al concreto concludendo con dei dati perché poi molti di voi possono dire ok tutto molto bello esperienza molto positiva ma alla fine il terzo obiettivo che io ho citato ovvero quello della lead generation è stato centrato o no perché si investe nella digital transformation è anche corretto monitorare quello che è il ritorno degli investimenti della lead nel mondo digitale e Neos Experience e la piattaforma Rubin Red ci consentono tra l'altro con una serie di strumenti di monitorare costantemente quali sono le prestazioni del nostro sito e come poter migliorare eventualmente le prestazioni del nostro sito quindi attraverso dei tool non riusciamo a vedere chi entra da dove entra che cosa ha cliccato quali sono le parole chiave che sono state cercate quali sono le pagine più visitate e questo ovviamente nel momento in cui ci rendiamo conto che alcuni contenuti sono più visitati e riscontrano meglio il favore dei nostri clienti o dei potenziali clienti ci consentono poi di andare a implementare questi contenuti il sito alcuni dicevo prima alcuni numeri un po' più concreti il sito è stato messo online all'inizio di febbraio è un progetto che è durato all'incirca otto mesi come vi dicevo un progetto complesso proprio perché per la system integration e per la scalabilità del progetto quindi ha neanche un mese e mezzo della messa online del sito a livello di lead generation noi abbiamo avuto già 35 contatti quando vi parlo di contatti per noi significa potenziali clienti contatti in target quindi che corrispondono al nostro mercato di riferimento 35 contatti da tutto il mondo di questi 35 contatti due sono già diventati clienti con un primo ordine abbiamo avuto una decina di richieste tecniche di approfondimento da parte degli idraulici e quindi da parte del nostro consumatore finale a dimostrazione che quindi il sito trova un riscontro anche presso il consumatore finale abbiamo avuto tutta una serie circa una trentina di iscrizioni nuove alla nostra newsletter e non ultimo noi abbiamo aperto anche una sezione lavora con noi e ad oggi riceviamo costantemente circa una quindicina di curriculum che sicuramente possono servire e verranno da supporto a quello che è l'ufficio risorse umane in quanto creiamo una banca dati che poi può essere utilizzata in futuro concludo dicendo a livello di lead generation che la piattaforma Rubin Red ci ha anche aiutato a gestire in maniera molto più strutturata i nuovi contatti prima della piattaforma i contatti arrivavano a parte i contatti concreti fatti attraverso le fiere piuttosto che con visita del cliente arrivavano tramite la classica info venivano a volte smistati a volte non smistati e non c'era il monitoraggio costante di come poi venivano gestiti questi contatti oggi in general fittings i nuovi contatti arrivano dalla piattaforma Rubin Red vengono gestiti e smistati dall'ufficio marketing vengono condivisi con gli area manager quindi con i commerciali e regolarmente vengono fatti dei follow up per andare a verificare cosa succede con questi contatti se c'è stata una risposta e quanti di questi contatti in che maniera questi contatti possono essere diventati clienti motivo per il quale io oggi a distanza da un mese e mezzo riesco a dirvi che di 35 contatti due sono già diventati clienti spero di essere stata chiara concludo semplicemente ricondegandomi a quello che diceva Dario io sono sempre stata convinta della trasformazione digitale l'ho portata in general fittings ho avuto comunque la fortuna di avere una direzione lungimirante che mi ha seguito l'ho portata anche nell'esperienza precedente senza trasformazione digitale credo che le aziende italiane possono far fatica veramente a stare al passo con con i tempi a maggior ragione nel momento che stiamo vivendo adesso di pandemia quindi bisogna secondo me nel B2B credere fortemente nel digitale e comunicare comunicare la nostra eccellenza bene sono sono muto ancora no no mi sentite mi sentite bene grazie Giulia e della tua testimonianza davvero davvero dà il senso del del lavoro che stiamo facendo e sono molto orgoglioso di avere il privilegio di lavorare con il team che sta lavorando con te e quindi sono molto 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 felice di questo ragionamento che ha avuto modo di sviluppare riassumo velocemente quelli che sono i principali take away prima di passare alle domande che vedo che sono numerose quindi ci prendiamo un pochino di tempo ancora direi una decina di minuti almeno per entrare nel merito di tutto sicuramente spero sia passata questa visione di cui siamo profondamente convinti dell'eccellenza del settore manifatturiero noi abbiamo un valore straordinario in realtà come General Fittings che Giulia ha sapientemente saputo rappresentare però non sono tante le aziende che stanno facendo bene da questo punto di vista come General Fittings l'occasione della pandemia non va sprecata non bisogna ripiegarsi sul passato il passato non torna non tornerà il mondo di prima a chi spesso me lo chiede questa è la risposta che a me sembra così naturale così evidente bisogna guardare avanti il processo di acquisto B2B è cambiato e non torna il processo di prima quindi significa che se non si intraprende questo percorso è molto velocemente semplicemente venderà qualcun altro al nostro posto abbiamo parlato del digital twin del prodotto elemento fondamentale cioè creare un'infrastruttura solida robusta antifragile abbiamo visto per quanto riguarda i propri dati digitali abbiamo parlato del valore della personalizzazione della flessibilità elementi fondamentali che ho ritrovato in molte delle vostre domande che adesso trattiamo abbiamo toccato alcuni esempi che Patrizia ci ha presentato di casi d'uso di Rubin Red e poi Giulia appunto un deep dive su quella che è stata la sua esperienza in questo mondo digitalizzato quindi direi di passare alle domande abbiamo una prima domanda un partecipante ci chiede direi che potresti rispondere tu Patrizia quale ritorno sull'investimento si ha in media quando si decide di rendere possibile la configurazione di prodotti personalizzabili in una piattaforma di e-commerce B2B e quali sono i target di persone dal punto di vista socio-demografico e aziende settori che si dimostrano più refrattare all'utilizzo di soluzioni di e-commerce B2B allora il ritorno sull'investimento nel caso di un digital commerce B2B dipende molto dal settore e dal valore medio diciamo della vendita in ogni caso per esperienza sul numero di progetti che abbiamo realizzato si parla di mesi nel ritorno dell'investimento a seguito dello sviluppo proprio di un e-commerce B2B quindi spero di avere risposto alla domanda dell'utente per quanto invece riguarda l'altra domanda se ci sono settori o utenti refrattari allora noi abbiamo lavorato nei settori più svariati e con target socio-demografici parlo di clienti finali totalmente diversi e non abbiamo malgrado ci fossero anche esitazioni da parte delle aziende che ci avevano commissionato i progetti non abbiamo mai trovato ostacoli nell'adozione della piattaforma di e-commerce B2B perché se la piattaforma è utile quindi dà un valore all'utente o al cliente in questo caso viene adottato facilmente da tutti non dimentichiamo che di questi tempi chiunque sa fare un acquisto online quando si tratta di privato se la user experience è facile veloce disponibile i clienti delle aziende non hanno nessun ostacolo ad adottarlo molto velocemente e sorprendendo spesso l'azienda committente tra l'altro spesso si spesso anzi è certo l'aumento delle vendite nel senso che automaticamente aumentano in maniera significative le vendite dell'azienda che adotta l'e-commerce B2B ok un'altra domanda Rubin Red può essere facilmente suddiviso e personalizzato in B2B e B2C la risposta è sì Rubin Red è adatto sia a contesti B2B perché si aggancia a piattaforme gestionali appunto come SAP e altre e poi si raccorda piattaforme di configure price quote come Declaro che è una soluzione che stiamo diffondendo molto per coloro i quali hanno prodotti complessi con la configurazione complessa e anche ovviamente sul consumer sul direct to consumer la cosa che le caratteristiche più significative di Rubin Red che abbiamo brevemente toccato sono il valore aggiunto è proprio nella personalizzabilità quando si tratta di avere piattaforme di digital commerce direct to consumer molto standard allora possono andare bene anche strumenti molto diffusi sul mercato che si mettono in piedi in 448 quando si vuole avere un grado di personalizzazione di sofisticazione nella user experience maggiore allora è fondamentale avere una flessibilità come quella che Rubin Red da una domanda per Giulia qual è il fatturato di General Fittings e quali sono i paesi a cui si rivolge General Fittings fattura poco più di 60 milioni di euro sostanzialmente abbiamo quasi un 70% del nostro fatturato che è veicolato all'estero e i nostri paesi esportiamo in vendiamo produciamo esportiamo in oltre 80 paesi nel mondo quindi direi che siamo molto molto forti in tutta la parte dell'estero Europa nella Russia nei paesi arabi Germania Nord Nord Europa sostanzialmente un po' ovunque siamo un po' meno presenti viene più facile dire dove non siamo che non dove siamo negli Stati Uniti e in America Latina che sono paesi che stiamo cercando di sviluppare proprio in in questo momento la scelta del partner di General Fittings cioè il gruppo New Experience è nata in quale reparto e qual è stato il peso della proprietà barra CEO nella decisione sempre per te Giulia allora la scelta del partner in realtà viene da una conoscenza di New Experience e all'interno di New Experience di World Cup precedente dove io ho già sviluppato nella mia precedente esperienza una piattaforma simile per l'azienda dove lavoravo quindi ero sicura delle competenze e del risultato che avrei potuto portare in General Fittings proprio perché avevo un'esperienza alle spalle apro una parentesi sulla quale forse non mi sono soffermata competenza di uno staff che veramente è stato in grado di seguirci laddove noi parliamo marketing e ripeto la parola di prima e loro parlano tecnichese quindi sono stati capaci tradurre le nostre esigenze di marketing da un punto di vista tecnico per rispondere però a quelli che erano le nostre richieste allora devo dire che la difficoltà di far passare la proposta al CEO e alla direzione non è stato facile non lo è mai in un mondo B2B a mio parere non lo è mai non lo è spesso in un mondo B2B e non lo è in aziende passatemi il termine padronali General Fittings è un'azienda padronale però se ci sono gli strumenti come ho fatto se ci sono gli strumenti se si supporta bene se si spiega bene se ci sono delle case history se c'è un partner che supporta come ci ha supportato la nostra experience perché concretamente io come ho fatto ho spiegato la direzione quella che doveva essere la necessità quelli che dovevano essere gli obiettivi ho portato i case history precedenti e mi sono fatta supportare da News Experience Workup in una presentazione con dati alla mano di quello che potevamo fare e dove potevamo arrivare e che cosa potevamo portare io dico sempre che è complicato far passare un progetto alla direzione lo è anche nel mondo B2C vi dicevo vengo dal mondo B2C però sono anche convinta che quando si presentano dei progetti se la presentazione viene fatta in maniera strutturata e con dei dati spesso anche la direzione più ostica fa cadere le barriere e vi segue se si va in una direzione se si va a presentare un progetto a gente che non parla la nostra stessa lingua perché non è nativo digitale perché viene dal mondo produttivo perché non è nemmeno marketing perché già solo l'ufficio marketing in determinate realtà è un qualcosa di strano passatemi il termine se si parla senza avere dei dati capite che è molto difficile convincere l'altra l'altra persona bisogna avere dei dati essere molto aperti e molto aperti al confronto e avere una traccia di obiettivi ritorno degli investimenti tempistiche spero di avere risposto alla alla domanda sicuramente allora una domanda te la faccio io Giulia come possiamo fare ancora meglio per te come possiamo esserti ancora più utili io ritengo abbiamo già siamo già sviluppando nuovi progetti adesso stiamo implementando in questo momento tutta la parte di strumenti di tool di data studio dove fondamentalmente noi avremo la possibilità con un unico contenitore un'unica piattaforma di monitorare non solo i dati del nostro sito web ma in un unico contenitore noi monitoreremo i dati e il traffico del canale facebook di linkedin di instagram tra l'altro noi abbiamo un instagram generale ma abbiamo anche un instagram russo un instagram ucraino quindi i canali social le performance delle newsletter quindi quando questo tool sarà implementato a livello marketing a me basterà aprire delle videate avrò tutti i dati personalizzati io potrò vedere in tempo reale come stanno performando tutti i miei canali digitali immaginatevi il risparmio di tempo rispetto a apro i dati del sito apro le statistiche di facebook apro le statistiche di linkedin poi apro quelle di instagram questo è uno strumento che stiamo implementando in questo momento nel prossimo futuro implementeremo di lo dicevo prima l'integrazione del nostro sito web con il gestionale con sap e poi non ne abbiamo ancora parlato ma io nella mia testa voglio arrivare alla realtà virtuale cioè io vorrei poter implementare sul sito sul canale digitale uno showroom virtuale le fire ci hanno insegnato che purtroppo venendo a mancare non riusciamo a far vedere il prodotto quindi perché non portare il nostro cliente da noi tramite uno showroom virtuale quindi creo uno showroom all'interno del prodotto dei touch point mi si esplode mi faccio un esempio concreto gira la valvola si apre il raccordo ti do le quote questo è quello a cui vorrei arrivare in un futuro neanche talmente tanto lontano perché il mio traguardo sarebbe già iniziare a lavorarci sul 2022 e poi vediamo perché poi le idee vengono man mano confrontandoci perché ritengo che il bello di poter lavorare con un partner come voi è che c'è tanto confronto tanto supporto su tutti gli aspetti quindi io ho parlato del sito web ho avuto supporto anche sui canali social ho avuto supporto sul PIM quindi tanti aspetti ancora da affrontare insieme quindi spero che la strada sia ancora lunga e faremo ancora tante tante belle cose insieme benissimo grazie Giulia un'altra domanda sempre per te se usate il lead champion ammetto la mia ignoranza mi stai parlando di? è una domanda di un anonymous attendee quindi non sappiamo da chi è stata rivolta però se tu ammetti la tua ignoranza io ammetto la mia colpa di non avertelo ancora raccontato andiamo alla domanda successiva Rubin Red è adatta anche in aziende B2B che vendono prodotti su misura per il cliente tramite commessa grazie allora la risposta è sì innanzitutto volevo dire anche una cosa che la piattaforma Rubin Red è un ecosistema per cui puoi iniziare come sito web puoi declinarsi in e-commerce B2B e poi arrivare anche a un B2C perché alcune aziende fanno anche questo tipo di sviluppo di percorso sicuramente anche attraverso altre soluzioni che abbiamo del gruppo Neo Experience proprio per gestire le commesse quelle complesse quindi avere anche un generatore di preventivi adeguato nel caso di alta complessità nella commessa perfetto io credo abbiamo esaurito le domande siamo stati nei tempi anzi siamo due minuti in anticipo rispetto a quanto avevamo immaginato di impegnare scusa Dario c'è un'ultima domanda a cui non abbiamo risposto e ci terrei a rispondere che chiede se contenuti digita ecco questa è una domanda molto importante perché Rubin Raid nasce proprio con la possibilità di avere contenuti diversi e tool per l'ottimizzazione su device diversi tant'è che la navigazione su mobile potrebbe essere completamente diversa rispetto a quella che abbiamo su desktop perché in mobile le esigenze sono diverse soprattutto in ambito B2B ricordiamoci che il mobile viene utilizzato perché la gente è in cantiere è in installazione è in fabbrica per cui l'esperienza mobile è estremamente importante anche a supporto e a servizio aggiungo anche una cosa se mi permettete quindi perché abbiamo l'esperienza noi abbiamo fatto proprio tutto il sito che è ottimizzato per la parte mobile parlavo prima di tanti mercati di general fittings noi abbiamo addirittura il sito in diverse lingue e abbiamo la possibilità di customizzare il contenuto a seconda della lingua barra mercato di riferimento perché noi non vendiamo lo stesso catalogo in tutti i mercati e quindi Rubin Red ci dà la possibilità di pubblicare nelle diverse lingue barra paesi dei cataloghi dei contenuti diversi benissimo nel frattempo ho condiviso visto che sono arrivate anche altre domande di altri attendee sulla lead generation ovviamente il tema della lead generation è un tema centrale meriterebbe e faremo da questo punto di vista un incontro dedicato abbiamo una soluzione che è una soluzione nata negli Stati Uniti che poi in questo caso è stata importata in Italia l'abbiamo acquisita da una realtà americana e poi ne abbiamo curato l'implementazione che usa l'intelligenza artificiale per comprendere sulla base del comportamento quali sono fra i visitatori del sito web di un'azienda quelli che sono realmente interessanti dal punto di vista del profilo firmografico che è una sorta di profilo socio-demografico però dell'azienda e quali comportamenti in navigazione sono predittivi del fatto che questa azienda che sta navigando il vostro sito è realmente interessata a quello che fate e è una soluzione molto diffusa perché come potete immaginare in tutta Europa in particolare perché come potete immaginare il tema della lead generation è fondamentale è un po' come ricevere nella propria sede delle persone potenzialmente interessate ai vostri prodotti ma senza sapere chi sono e si aggirano per i vostri uffici vanno a vedere i vostri prodotti magari nel vostro showroom e voi non sapete chi sono e non sapete per quale ragione sono lì ecco lead champion permette di sapere di avere queste informazioni fondamentali quindi con questo rispondo a tre quesiti che sono che sono giunti quindi con un minuto di ritardo scusami Dario c'è ancora c'è ancora una domanda c'è sì un chat allora di Riccardo Bertoldo ti chiedo scusa puoi leggerla tu buonasera innanzitutto complimenti per il webinar una domanda ma Ruby Red permette anche di ottimizzare i contenuti digitali su smartphone vi sono tools appositi grazie mille sì assolutamente grazie e diciamo che l'elemento fondamentale e Ruby Red è nato proprio in questo senso è la responsività nel senso che indipendentemente dal dispositivo che si usa è fondamentale che i contenuti che vengono offerti e l'esperienza sia perfetta e impeccabile e come avevamo avuto modo appunto di dire di dire prima troppe aziende nel B2B non pensano che i propri utenti vogliono usare lo smartphone per fare per fare acquisti quindi credo che fra l'altro tu puoi confermare Patrizia che l'attenzione alla responsività e alla user experience è uno dei cardini su cui è nato il prodotto sì esatto come avevo detto prima e mi riferivo proprio a questa domanda siamo in grado di creare esperienze utenti personalizzate anche su device quindi anche l'ottimizzazione dei contenuti è specifica nel caso del mobile che ovviamente ha bisogno di prestazioni totalmente diverse rispetto al desktop ecco avere oggi un sito che non è mobile responsive è come avere un ufficio con una porticina alta 30 centimetri dove i clienti per entrare devono sdraiarsi e strisciare come se stessero entrando in una miniera se il vostro sito non è mobile responsive vi prego scegliete o Rubin Red o un'altra piattaforma ma intervenite tempestivamente va bene io credo credo che abbiamo esaurito le domande ringrazio ancora tanto Giulia e i colleghi grazie a voi e grazie a tutti voi che avete partecipato e speriamo di avere mantenuto la promessa di fare buon uso del vostro tempo e di rivedervi presto in una prossima occasione e grazie ancora buona continuazione a tutti grazie arrivederci 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 grazie a tutti